Io vi dico il mio pensiero non è un fatto politico, io sono profondamente, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati, in un regime nel quale il regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è la obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Si smarca dalla proposta fatta al governo il 31 dicembre scorso dal coordinatore delle regioni Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, quella di mettere in DAD solo gli studenti non vaccinati nel caso di due positività in classe. Nessuna dietrologia politica avverte il governatore, solo la necessità di non creare nuove tensioni e disparità all'inizio di un anno già carico di interrogativi. Questa è la linea tra l'altro della società italiana di pediatria. Spesso sono bimbi di genitori vaccinati, quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte. Per evitare comunque il caos a quarantene con il rientro in classe il 10 gennaio, la regione del Veneto nei prossimi giorni presenterà all'esecutivo una sua proposta, una via che si augura il Presidente possa essere adottata a livello nazionale e sulla quale ancora non si sbilancia, solo qualche indizio. Non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà fare quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Più in generale resta un contagio diffuso, su cui incide sempre di più Omicron e la sua ormai conclamata maggiore diffusività. Quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone o con sintomi, quindi è molto veloce. E di questo c'è evidenza anche nelle acque reflue, come evidenziato da uno studio condotto proprio dalla regione Veneto, prima in Italia. Dal 5 dicembre nelle fogne è stata trovata la variante Omicron, una presenza in crescita esponenziale, tanto che ad oggi è all'80% nei campioni di virus riscontrati e sequenziati. Un contagio che cresce quindi meno proporzionalmente ai ricoveri, che continuano a interessare soprattutto pazienti non vaccinati, in particolare in terapia intensiva. Pressione ospedaliera dunque ancora sotto controllo e che sembra allontanare, ma non troppo, l'arancione. Ragionevolmente almeno due settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo.